Donare è un dovere morale, è un piacere per l'anima. Questa la guida d'onda di Cuore Amico Onlus, nata nel 2000 e portata avanti per la forte determinazione di Paolo Pagliaro. Cuore Amico si è distinta in tutti questi anni per aver portato sollievo effettivo ai bambini portatori di handicap del Salento con l'acquisto di speciali autovetture, l'intervento sugli immobili, la realizzazione di strutture tese al superamento delle barriere architettoniche, le spese cliniche non sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale, siano esse dovute ad agenze o interventi, a spese di viaggio, terapie o altro. Ora, Cuore Amico, sbarca a Taranto per l'iniziativa del dottor Mario Di Noi. Noi a Taranto, come Movimento Regione Salento, stiamo cercando di inserire un concetto di solidarietà attraverso un progetto, il progetto Cuore Amico, che già nel Salento, Lecce, Brindisi ha un suo sostegno importante. Stiamo inserendo questo discorso anche nel tessuto sociale di Taranto, proponendo una serie di iniziative tese a reperire fondi che siano finalizzati a un concetto di solidarietà, appunto il concetto Cuore Amico. Di cosa si occupa Cuore Amico? Cuore Amico si occupa di acquistare dei mezzi di locomozione per chi purtroppo non ha la disponibilità né economica né fisiologica di deambulare. E questo già ha avuto un riscontro importante appunto nella provincia di Lecce, nella provincia di Brindisi, dove abbiamo fornito già, dove Cuore Amico ha già fornito numerosissimi autoveicoli che appunto stanno alleviando le sofferenze di questi amici che purtroppo in noi, meno fortunati di noi, non possono deambulare. Sta arrivando una nuova iniziativa che avete messo proprio qui in campo a Taranto. Sì, sì, noi il 7 di novembre, prossimo 21, stiamo organizzando un grosso burraco di beneficenza, ormai i burraco si fanno dappertutto, anche noi utilizzeremo questo mezzo sociale, soprattutto ludico, per reperire dei fondi appunto da finalizzare, da inviare a Cuore Amico, anzi vi invito, esce sempre la pubblicità su Telerama di Cuore Amico, vi invito tutti insieme a dare il vostro 5x1000 a Cuore Amico, appunto per poterci dare una mano ad alleviare le sofferenze di chi è meno fortunato di noi.